Quello che cerchiamo di fare noi, i negozi come il mio, è non limare il prezzo, ma dare il giusto a chi deve essere dato. Ciao, io mi chiamo Olga, della sfuseria Chilo, in via di Ravecca. Questa appunto è una sfuseria, vendo dagli alimenti che possono essere la pasta, il riso, le spezie, le tisane, i biscotti, i taralli, ai detersivi sfusi, shampoo, sapone dolce a sfuso, cosmetici, naturali, saponi e quant'altro. Ci sono anche i solidi, come possono essere lo shampoo, saponi vari oppure, non so, il burro solido per il corpo. E tutto ciò, a cosa serve alla fine, per una spesa più sostenibile. Una persona può venire qua con i propri contenitori, sacchetti, sacchettini, tupperware, non è diciamo importante. Si può fare la tara, quindi la persona prende assolutamente quello che gli serve e paga ciò che prende. Questo va a inficiare anche sul portafogli, perché spesso si dice che nei negozi, magari con i prodotti naturali e biologici, i prezzi siano più alti. Allora, intanto è vero, perché non possiamo competere con la grande distribuzione. C'è una catena, diciamo, dietro che a volte può essere non proprio etica e si va spesso ad abbassare il più possibile il prezzo, ma questo va a ricadere sul produttore o chi coltiva le cose e sulla catena, diciamo, quella che poi va a risalire fino al consumatore finale. Nel senso che il coltivatore e il produttore sono delle piccole aziende che ci tengono a una coltivazione naturale, a una sostenibilità del terreno, proprio del suolo, di come viene trattato proprio ciò che coltivano, allevano e quanto altro. Però il risparmio in questo caso c'è perché si evita lo spreco. Se una persona viene con il proprio contenitore, il proprio sacchetto, sacchettino, prende esattamente ciò che gli serve. Quindi non correrà il rischio di buttare via magari un pacchettino che è rimasto dietro la dispensa, che non è piaciuto, l'ha assaggiato, il prodotto non è piaciuto e può buttarlo via o lasciarlo lì a marcire. Insomma, nella sfuseria questo non succede. Uno prende esattamente ciò che gli serve, a volte prende anche un pezzo o due pezzi, quanto riguarda i biscotti e i taragli, per assaggiare e capire se può piacere. La stessa cosa funziona con i detersivi. I detersivi che ho io in questo caso sono ecologici ma sono anche iperconcentrati. Quindi uno intanto mi può portare anche un barattolino. Dice ok, voglio provare se funziona o no. E poi può portare il proprio contenitore, anche dei detersivi vecchi che usava, in modo tale appunto da non buttare via i fraconi. La stessa cosa vale per shampoo, sapone per le mani, detergente intimo. Insomma, si fa il tutto per non sprecare e questo comunque migliore il rapporto con il portafoglio. Io mi trovo appunto in via di Ravecca, nel sestiere del Molo. È una via che da poco, comunque quest'anno, è diventata piena di botteghe. È anche una via, secondo me, ottima per fare lo shopping. C'è la ristorazione, come già si sa, che sicuramente è ottima, ma ci sono anche delle botteghe piccole. Ci sono degli artigiani che appunto lavorano, amano il proprio lavoro e si impegnano per dare un qualcosa che sia un made in Italy e che sia di valore e di cuore, secondo me. Potete trovarmi qua, qualsiasi cosa sono anche su Instagram e Facebook.